amici di atti sport 24 bentornati in nuova puntata di due metri la polla nuoto vista da vicino si corre veloci verso la seconda giornata del campionato di a uno maschile ed è un piacere oggi dare inizio alle nostre chiacchierate con gli amici della nuoto catania per questo siamo davvero contenti di riavere il nostro ospite l'attaccante del set etneo luca orlando ciao luca bentrovato un piacere di averti con noi ciao andrea ciao a tutti è un piacere sempre essere qui luca partiamo dall'esordio catania approccia bene il match resta in partita per due tempi due tempi e mezzo poi c'è di schianto contro la vena offensiva di trieste come archiviato la squadra la sconfitta incassata alla bianchi nel debutto in campionato allora di certo per c'era un po di malumore per i due quarti finali per visto che il risultato è divagato nel finale fondamentalmente quello che noi c'eravamo detti di fare è stato fatto ovvero abbiamo mantenuto un buon approccio mentale all'inizio della partita siamo arrivati concentrati la preparazione fisica è quella giusta ci manca il ritmo partita probabilmente per date le poche volte che abbiamo giocato tutti quanti insieme parti in particolar modo con squadre avversarie quindi penso che nelle prossime settimane sarà ancora più decisivo la prestazione fisica quanto la prontezza mentale e la concentrazione assolutamente vado un attimo sul personale me la concedi una piccola parentesi assoluta catania si è concretizzato in extremis ti chiedo quali motivi ti hanno spinto accettare l'offerta della società etnea in fondo per te se ricordo bene la prima esperienza in assoluto nella massima se non è la prima esperienza in assoluto feci qualche partita in a1 con la canottieri appena arrivato nel lontano 2000 2019 2020 e nella season pre covid insomma diciamo però che questa dovrebbe essere la prima questione completa quindi lo consideriamo come il debutto autentico ma esatto questa è la prima season vera e propria anche da protagonista quindi sono veramente contento orgoglioso di aver approcciato di aver approcciato questa questa scelta di di venire qui non mi aspettavo tutto questo calore sia dalla parte della città che dalla parte della società e dello spogliatoio sono veramente molto contento super entusiasta del percorso che ci sarà durante quest'anno e stiamo lavorando veramente molto 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 duramente per raggiungere i nostri obiettivi assolutamente ti chiedo che tipo di emozione hai provato quando sei uscito sul piano vasca per il tuo nuovo esordio in a1 era l'emozione forse è stata messa in secondo piano della concentrazione perché è stato uno dei punti cardine con sulla quale abbiamo trattato il prepartita arrivare con una giusta concentrazione in acqua il giusto approccio quindi l'emozione è passata in secondo piano e l'ho sfogata tra me e me nel post partita con con grande emozione con grande gioia ecco gruppo nuovo gruppo che sa sempre rimodellarsi nel corso delle varie campagne acquisti però dopo aver effettuato diciamo il saldo tra giocatori in uscita e giocatore in entrata c'è bisogno di una fase fondamentale quella del lavoro di di campo dell'amalgama della condizione fisica degli automatismi di gioco a che punto è arrivato il processo di amalgama di un gruppo profondamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione e sempre più giovane mi permetto di dire assolutamente è quasi un vanto essere la la formazione più giovane di questo campionato e sicuramente abbiamo la società ha cambiato otto giocatori rispetto all'anno scorso quindi sono subentrati molti ragazzini dalle giovanili stiamo lavorando giorno per giorno proprio per andare a limare le differenze che ci sono tra una categoria e l'altra andare a limare determinati schemi di gioco determinati approcci mentali che sono quelli più fondamentali per approcciare al meglio la partita e siamo c'è tanto entusiasmo vogliamo iniziare a cavalcare quell'onda per arrivare al meglio i nostri obiettivi al meglio è un obiettivo che diciamo alla scritta grande a caratteri cubitali serie a 1 2025 2026 questo percorso questo obiettivo passa però da 26 tappe e la prossima vi propone l'esordio casalingo una sfida impegnativa contro una delle squadre maggiormente rinforzate dall'ultima sessione di mercato arriva alla scuderi il circolo nautico posillipo di mister pino porzio che tipo di partita ci possiamo immaginare contro la corazzata partenopea allora per me sarà sicuramente una partita che tende a essere molto 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 dinamica analizzando sia la nostra formazione che la loro soprattutto con la mancanza degli stranieri l'età è molto giovane siamo tutti ragazzi e si si presta ad essere una partita molto veloce molto dinamica con tanti cambi di gioco molte difese e molto prestante ecco e io voglio chiudere la nostra chiacchierata con l'ultima battuta dal punto di vista tecnico tattico quali possono essere le chiavi di questa contesa dov'è che la nuoto catania può mettere in difficoltà i blasonati rivali allora come ho ribadito già in precedenza il nostro obiettivo è quello di puntare ad arrivare in vasca dal primo secondo dal primo minuto con la massima concentrazione la massima aggressività è arrivare e portarla imparare a portarla per i quattro tempi ciò che ci è mancato settimana scorsa a trieste è andata bene per i primi due sabato punteremo a tenerla per tutti e quattro i tempi va bene siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio luca orlando per averci fatto compagnia do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao luca grazie mille ciao andrea grazie a tutti